Approvata la nuova legge elettorale, tra le novità l'introduzione della doppia preferenza di genere e della figura del consigliere supplente. Le valutazioni ambientali diventano più semplici. Festa del Piemonte al via il fitto calendario di eventi. Domenica la rievocazione storica della battaglia della Sietta. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Introduzione della doppia preferenza di genere. Nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nelle liste in misura superiore al 60% dei candidati in compatibilità tra le funzioni di assessore e quelle di consigliere con l'introduzione della figura del consigliere supplente. Queste le principali novità della nuova legge elettorale approvata dall'Aula di Palazzo Lascaris. Con 31 sì, 10 astenuti, 2 contrari, il Consiglio regionale presieduto da Stefano all'Asia e alla presenza del presidente di giunta Alberto Cirio ha approvato la nuova legge elettorale del Piemonte a firma Michele Mosca, Lega. Tra i punti salienti del provvedimento, l'articolo 8 disciplina la supplenza dei consiglieri e assessori, apportando la prima novità di rilievo, poiché sancisce l'incompatibilità tra le funzioni di assessore e quelle di consigliere, determinando la sospensione dalle funzioni di consigliere per il periodo in cui si svolgono quelle di assessore. L'articolo 10 disciplina il sistema elettorale. 40 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali concorrenti e 10 invece con sistema maggioritario sulla base di liste regionali abbinate al candidato presidente. L'articolo 13 individua le soglie di sbarramento, coalizioni almeno al 5% dei voti validi e le liste che singolarmente abbiano conseguito un risultato superiore al 3%. L'articolo 14 norma la parità di genere, altra importante novità del testo, stabilendo che nessuno dei due sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati, tenendo inoltre conto dell'alternanza fin dove possibile. Viene introdotta la preferenza di genere, permettendo all'elettore di esprimere fino a due preferenze con annullamento della seconda in caso di preferenze per candidati dello stesso sesso. Una legge innovativa che cambia le figure, le sorti non tanto del Piemonte, ma sicuramente della nuova composizione dal prossimo anno del Consiglio regionale. È un momento storico perché dopo 50 anni dall'istituzione del Consiglio regionale abbiamo dato una legge al Piemonte, una legge elettorale che garantisce la governabilità, che garantisce la rappresentanza delle opposizioni, che garantisce la rappresentanza dei territori e anche la rappresentanza di genere che non è assolutamente un aspetto secondario. Volevamo abolire il listino, siamo riusciti sostanzialmente solo a modularlo, non abolirlo del tutto, ma complessivamente è una legge che guarda di più alla proposta del Partito Democratico rispetto alla partenza. Con il voto a maggioranza di un ordine del giorno, a prima firma Alberto Preioni, lega l'Aula in vita all'ufficio di Presidenza del Consiglio a esprimere parere favorevole sulla Costituzione in giudizio contro il ricorso del Governo alla Corte Costituzionale sul bilancio di previsione finanziario 2023-2025. La norma impugnata dall'esecutivo riduce i trasferimenti di cassa alla sanità e li proroga fino al 2032 al posto dell'originaria previsione del 2026. Critiche e le opposizioni con gli interventi in Aula di Daniele Valle e Raffaele Gallo, Partito Democratico, esce un sacco, Movimento 5 Stelle. Valutazioni ambientali più semplici, via libera al provvedimento che rivede la materia le cui norme risalivano a 25 anni fa. Semplificare al massimo la normativa delle procedure di valutazione ambientale strategica di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata. Questo è l'obiettivo del disegno di legge 242 approvato dall'Aula con 23 sì e 14 non votanti che rivede la materia le cui norme risalivano al 1998. Relatore di maggioranza Matteo Gagliasso lega. Finalmente si accelera nella direzione giusta, quella di semplificare e di rendere certi i tempi e i costi. Abbiamo deciso di intervenire su questi temi perché sappiamo che molte aziende e molti investitori guardano la Piemonte come una possibilità di sviluppo e noi non possiamo perderla. Nel corso dell'esame dell'articolato sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati da Giorgio Bertola, Europa Verde, relatore di opposizione, e da Sean Sacco, Movimento 5 Stelle. Questi ultimi finalizzati ad includere aspetti sanitari tra gli standard di riferimento. Certamente questo disegno di legge adegua la nostra normativa alle normative nuove del governo nazionale ma a nostro avviso semplifica troppo le procedure, applica un'eccessiva delegificazione demandando troppe questioni a regolamenti della giunta regionale senza prevederli in legge. Autoconsumo da fonti rinnovabili approvata la proposta di legge rivolta al Parlamento. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza dei votanti la proposta di Raffaele Gallo, Partito Democratico, rivolta al Parlamento sulle misure di ulteriore incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili. Il provvedimento che verrà inviato alla Camera dei Deputati ha ottenuto 14 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astensioni, mentre 11 componenti la maggioranza non hanno votato. La proposta di legge prevede di affiancare all'autoconsumo istantaneo un'effettiva incentivazione dello scambio all'interno di una comunità dell'energia rinnovabile o di un gruppo di autoconsumatori. Nella relazione di maggioranza Matteo Gagliasso lega, nel sottolineare la forte centralità che stanno sempre più acquistando le comunità energetiche, ha tuttavia chiesto di attendere i decreti attuativi del Governo in materia. Minori stranieri non accompagnati, nell'Alessandrino e nel Cunese, due incontri per aspiranti tutori. Due incontri informativi sul territorio piemontese per promuovere la figura del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati in un periodo che vede, da un lato, aumentare in Piemonte le richieste di tutela da parte del Tribunale dei Minori e, dall'altro, la cronica carenza di tutori in alcune zone del territorio. Il primo incontro, mercoledì 12 luglio, presso il Palazzo Civico di Tortona. Il secondo, martedì 18 luglio, nella sede del Consorzio Monviso Solidale a Savigliano. La figura del tutore volontario è una figura assolutamente centrale per l'inclusione e l'autonomia dei ragazzi stranieri che giungono appunto sul nostro territorio senza un accompagnamento formale, quindi senza che nessuno ne abbia la rappresentanza legale. E ci siamo accorti appunto negli ultimi mesi che, soprattutto in certe zone del Piemonte, pur a fronte di un aumento di minori stranieri presenti, il numero invece dei tutori è ancora abbastanza carente. Al via agli eventi che il Consiglio regionale ha organizzato in occasione della prima edizione della Festa del Piemonte, istituita quest'anno con legge regionale che si celebra il 19 luglio, mirata a diffondere la conoscenza della storia del Piemonte, dello statuto e dei simboli della regione e a valorizzarne il patrimonio culturale. Domenica 16 luglio al Colle della Sietta si svolgerà la rievocazione storica della battaglia. Martedì 18 luglio a Palazzo Reale, Michele D'Andrea, divulgatore storico, terrà il seminario animato I soldati che fecero l'impresa, la Sietta, il mito, la festa. Nello stesso giorno al pomeriggio si terrà una seduta aperta dell'aula. Il 19 luglio alla chiesa di Sant'Uberto della Venaria Reale sarà in scena lo spettacolo teatrale Piemonteis Bougianen a cura del regista e autore Giulio Graglia. All'URP del Consiglio regionale, sempre nell'abito degli eventi legati alla Festa del Piemonte, è stata inaugurata la mostra I ragazzi del 79, Giovani D'E per lo stemma del Piemonte. Sarà esposta fino al 2 settembre nelle vetrine esterne dell'ufficio Relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale 14G a Torino la mostra di disegni originali intitolata I ragazzi del 79, Giovani Idee per lo stemma del Piemonte. L'esposizione è il primo appuntamento delle celebrazioni per la Festa del Piemonte del 19 luglio. Nel dicembre del 1979, in vista dell'adozione dello stemma del Piemonte, il Consiglio regionale bandì un concorso di idee che coinvolse ben 82 scuole piemontesi di ogni ordine e grado, per un totale di oltre 1000 elaborati. Un concorso di idee per effettivamente rilanciare anche l'immagine del Piemonte, come la stiamo facendo oggi nel 2023, con la Festa del Piemonte, che sarà sviluppata non solo all'Assietta, sul Colle dell'Assietta, ma in tante realtà comunali dei 1180 comuni piemontesi. Fabrizio Geuna è uno dei ragazzi del 79, perché pensò di disegnare Drapò? Sì, ricordo abbastanza di quell'esperienza. Ricordo che si parlava, forse per la prima volta, di Europa e quindi mi veniva in mente di spostare il Drapò formando una E. E poi previato, alla fine in tutti i sensi, perché ricevete proprio un premio in denaro per buoni libri. Un'emozione notevole rivedere questo disegno dopo 44 anni. È uscita la percezione che i ragazzi di allora avevano della loro terra. È stato qualcosa di straordinariamente interessante. Penso che questa mostra valga più di un intero trattato di sociologia. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi, vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti!